Si è concluso con successo l'anno dedicato alle celebrazioni in memoria della fine della Prima Guerra Mondiale promossa dall'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone e dal gruppo di volontari civici Sala Consilina con il contributo della Banca Montepruno. Sabato scorso a Sala Consilina, presso il Teatro Mario Scarpetta, il Corro degli Alpini di Latina ha tenuto un concerto in cui sono stati presentati i brani più significativi ed importanti che raccontano con le loro parole le emozioni di militari e civili che hanno vissuto la guerra racconti in musica che i cantori del coro presentavano prima di esibirsi al fine anche di comprendere meglio il significato di ciascuno dei brani un modo per ripercorrere anche momenti drammatici vissuti dai nostri connazionali morti per difendere la patria. Si è conclusa così tra mille emozioni da due giorni fortemente voluta organizzata dalla Presidente del Consiglio Comunale Maria Stabile La Presidente Stabile infatti, come sottolineato nel suo discorso di saluto del mattino ha voluto ricordare come la due giorni deve essere un appuntamento che non deve limitarsi alla commemorazione di chi ha dato la vita per difendere la patria, la cultura e la tradizione del popolo italiano ma soprattutto deve essere un modo per rendere costante e continuo quel ricordo affinché tutti riusciamo ad amare la nostra terra sentendoci sempre più orgogliosi di essa così come erano orgogliosi e l'amavano i nostri giovani militari che tra gelo, fame e pericoli hanno continuato a lottare per difenderla Per Maria Stabile quelle giovani vite sacrificate per la patria Italia devono essere sempre ben vive nel ricordo di ciascuno di noi e non soltanto in occasione di commemorazioni o celebrazioni La due giorni che ha visto Sala Consiglina addobbata con bandiere tricolari in tutti gli esercizi commerciali è iniziata venerdì con la proiezione di film dedicati alla grande guerra la mattina per i ragazzi delle scuole presso il Teatro Scarpette nel pomeriggio presso la Chiesa della Santissima Annunziata Sabato emozionante cerimonia presso il Monumento dei Caduti con il Coro degli Alpini di Latina che ha portato il tricolore dalla Chiesa fino al monumento dove poi è stata deposta una corona di alloro a seguire la Santa Messa Nel pomeriggio il concerto del Coro degli Alpini al termine del quale il sindaco Francesco Cavallone ha consegnato a tutti i sindaci del comprensorio pergamene il ricordo degli eroi di tutti i comuni valdianesi affinché restino in esposizione in comune e ogni giorno ci si ricordi del sacrificio dei nostri giovani